Cioè ma voi avete fermato il campionato italiano di calcio nel pieno della stagione? Cioè avete portato via i giocatori alle squadre? Soprattutto la Juve, la Juve veramente ha dato come al solito una maieria di giocatori per sto spettacolo qua ragazzi Mamma mia che depressione, che depressione, io veramente Cioè Vi sento dire che sono contenti per il buon secondo tempo Per me è stato di un'umiliante sta partita Umiliante intanto già Tu fai una partita del genere prima dei mondiali Loro fanno esperimenti mettendo la seconda squadra Questa era l'Argentina B più Higuain praticamente E tu metti il meglio che puoi offrire secondo di Biagio ovviamente Secondo di Biagio Cioè prendi due palloni così e te ne torni a casa Eh però prestazione, ma che prestazione? Che se non c'era Buffon Che tanto ha criticato Buffon a 40 anni E' stato il migliore in campo dell'Italia ragazzi Ma di che cosa parliamo? E' stato di un'umiliante da far paura Cioè l'Argentina ha fatto quello che voleva L'Argentina ha fatto quello che voleva Ed entrava con una... Appena... Bastavano due passaggi veloci e non ci capivi più niente Non ci capivi più niente Non posso dare gol di Banega Accelerano un attimo Pam pam Palla dentro Così Tac Bella, leggera, pulita Pam E io dico ma cavolo ma io non lo so Ragazzi a volte veramente A volte veramente non capisco Intanto non capisco la scelta di Biagio Io non ho mai detto questa cosa Però la dico adesso Cioè tu vuoi ricostruire un'Italia Ma neanche come traghettatore Va bene Uno che fallisce con l'Under 20 Con l'Under 21 Cioè ha fallito ovunque Ma che cosa gli dai il ruolo di Ma piuttosto guarda Ma veramente Ma preferivo che andassero a chiamare Un allenatore d'esperienza Che ha avuto esperienza in Italia Cioè allora lì un traghettatore lo capisco Cioè lo capisco di più Non lo so Cioè Boh Poi ma era il caso di farle sti amichevoli Ripeto Allora è un'umiliazione Un po' di amor proprio No poi onestamente Cioè Queste devono essere partite Sulla quale Ricominciare Cioè riaprire un cerchio E tu riapri il cerchio Con i giocatori Che hanno fallito Nel precedente cerchio Perché Buffon non ha fallito Nel precedente cerchio Però Che comunque è difficile Che possa giocare fino agli europei Io l'avrei convocato Perché comunque Un uomo spogliatoio Però Cioè Fai di fare un tempo magari Cioè Cioè bisogna di farlo giocare 90 minuti Rugani ci sta Per carità Però Io poi guardo E vedo gente Cioè Giorginio Giorginio Può fare anche la Allora Ci sono giocatori Che possono anche fare bene Nella propria squadra Ma non sono Giorginio non è pirlo Cioè Non puoi far giocare Insieme intanto Giorginio e Verratti Questo Giorginio lo puoi far giocare Lo capisco anche Lo capisco anche Che fai giocare Giorginio Perché non è scarso Giorginio Tutt'altro Ma non gli puoi mettere di fianco Parole Verratti Devi mettergli Paradossalmente Testuraro Con tutti i difetti Che ha Ma è uno di quelli Che legna Ti protegge le giocate Che può avere Giorginio Invece così Cioè E' bello che I telecronisti Ah è bello vedere Verratti E Giorginio Che si scambiano Il ruolo Di impostazione Ma non va bene Non esiste nessuna squadra Che va a due playmaker Cioè E' allucinante E' allucinante Poi Li senti parlare A un certo punto Una perla Che ha detto La telecronista E' stata bellissima Tira fuori Verratti Che è un problemino E si Perché è inusuale Togliere un giocatore Durante il calcio d'angolo E si Perché Verratti Che è alto 1,20 E' alto Un fungo porcino E' un pezzo Era pronto Per saltare di testa Difendere in un calcio d'angolo Cioè Allucinante Vabbè Comunque Giorginio Siccome ci stava anche Ma non con quegli Interpreti di fianco O perlomeno Parole Io non capisco ancora Verratti Come si possa far giocare Ancora Verratti In nazionale Io non lo capisco Cioè O ci sono gli sponsor Che spingono Sennò non capisco C'è un giocatore Che ha fallito Sempre con la maglia Della nazionale Sempre Che in Champions League Ha fallito sempre Che le uniche prestazioni Decenti che le ha fatte Le ha fatte in Francia Dove c'è un livello Con le squadre da retrocessione Che sono Le squadre che lottano Per non retrocedere Dal quinto posto In giù Della Francia Sono Paragonabili A una serie B italiana Media serie B italiana E mi vengono Verratti Ma Verratti Ma come lo convocchi A fare Verratti Insigne Se gli togli I compagni di reparto È un giocatore Normalissimo Cioè Insigne Ogni volta Non riesco a capire Perché Con la nazionale E quando le partite Si fanno importanti Anche con Napoli Sparisce Cioè Sempre Sempre Vuol dire che probabilmente Ha dei limiti Sto ragazzo Chiaro Però Insigne In questo momento Nel suo ruolo è il migliore Quindi Non si può dire A livello nazionale Se togli Insigne Non è che potevi mettere Chissà chi Quello è Quello hai Poi vai a vedere Vai a vedere Immobile Ma immobile Adesso Cioè Pocaroniere fu Ubner Ma non fu Preso in nazionale Ubner Perché è un grandissimo Giocatore Ma non era da nazionale Cioè Non è perché Immobile È il primo In classifica Marcatori Bisogna convocarlo A tutti i costi Spingere Belotti Immobile Belotti Immobile Belotti Immobile Belotti Immobile Secondo me Sono giocatori Che in nazionale Non li vorrei Cioè Secondo me Non devono giocare Devono essere presi Per fare una buona panchina Ma con un cutrone Che qualunque cosa tocca La sta buttando dentro Cutrone È già Più forte Immobile Un buon giocatore Per carità Porta In suolo fa Sta vincendo la Scarpadora E io auguro di vincerla Perché sicuramente Se la sta meritando Però È una stagione Cutrone Ha già i colpi del campione Lo vedi Lo vedi È come quando si parla Di Guain Con l'argentina Rispetto ad altri giocatori Iguain è già un campione Lo vedi Lo vedi che è un fuoriclasse Lo vedi È quello che ho scritto Per chi mi segue Su Twitter Instagram E Facebook Non capisco La scelta di San Paoli Perché ad esempio Se Di Bala Mi dice che non si è integrato Però non posso vedere Un Lo Celso Giocare in questa maniera Cioè ragazzi Allora io piuttosto che Lo Celso Di Bala me lo porto Cioè Come mi porterei i Cardi A posto di L'ultimo che è entrato Che mi Pavon Mi sembra che si chiama Mi porto i Cardi Cioè dai ragazzi I Cardi di Bala Secondo me In questa nazionale Ci devono stare Però Sono giocatori Che si vede Che hanno un colpo diverso Che hanno un altro appello Un'altra dimensione Immobile La dimensione della provincia Adesso Corazio Sta facendo bene Ripeto Io mi auguro Veramente mi auguro Che vinca la Scarpa d'Oro Mi auguro Che vinca Quello che volete Però non è che da quello Si valuta Se un giocatore Un fenomeno o meno Io se il titolare Metterei Cutrone Sempre Sempre Il signo Lo metterei Perché c'è solo quello Però ad esempio Chiesa Secondo me Ho sentito Oggi Si diceva Ieri Si diceva Che forse giocava Andrei Ma meno male Che ha fatto giocare Chiesa Sono tutte cose Che non capisco A volte Come dare fiducia A giocatori Secondo me Che la fiducia L'hanno persa Da tempo Secondo me Dopo l'eliminazione Col Barcellona Correre a Madrid Verrà tenata da tirare fuori Ma da tirare fuori Dal giro della nazionale Finché non si fosse ripreso Da tenere fuori Non è stato così Poi che abbiamo Anche dei giocatori Purtroppo Non all'altezza Quello è un altro Paio di maniche Perché abbiamo gente Buona ma non campione Questo sicuramente Però a volte Ci mettiamo veramente Del nostro Con scelte azzardate Dell'allenatore Poi Con giocatori Secondo me Non all'altezza Ripeto Che Verratti Ripeto Secondo me Non era da convocare Punto Non è più da convocare Ma non perché Mi sta antipaglia Perché è scarso È scarso Non ha la Torriamo al discorso di prima Ha la personalità Ma non ha la La tecnica Non ha nulla Per giocare nazionale Cioè ripeto Io Domani mattina Domani mattina Mi proponesse uno scambio Sturaro-Verratti Io direi di no Perché mi è più utile Uno Sturaro Che legna Piuttosto che un Verratti Che ancora oggi A distanza di sette anni Da quando esordito Nei professionisti Non si riesce a capire In che ruolo gioca Perché ancora oggi Non si sa Non si sa Non si sa Se è mediano Se è regista Se è un incontrista Se è un trequartista Non si capisce nulla E allora francamente Mi tengo quelli che ho Io Marchisio L'avrei fatto giocare L'avrei messo al posto Di Verratti O di Giorginio Uno dei due Ma Marchisio ci deve stare Più Marchisio di Verratti Sapete benissimo Perché io non sono mai tenero Con Marchisio Anzi 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 Vedo che anche il Milan Ha tirato fuori Dei signori giocatori Dei giovani Cioè Se vogliamo dare in mano La squadra ai giovani Dobbiamo dare la squadra In mano ai giovani Francamente Mi sembra che Se si è ripartito Dalle cose sbagliate Si stanno portando avanti Le cose sbagliate Ora ripeto Queste partite qua Io fossi L'Italia Le manderei a casa Tutti Prima della prossima partita Perché tanto Non serve a nulla Francamente Se si devono affrontare Che si Che si faccia Veramente tabula rasa Qui non si è fatta Tabula rasa Anzi Mi sembra Che la tabula rasa Si sia fatta Nelle cose positive E non nelle negative Staremo a vedere Io intanto Vi saluto E vi do appuntamento Con i prossimi video Ciao